E lei è una regista che abbiamo incontrato nel corso degli anni a Carlo Vivari, abbiamo incontrato nei vari festival, Sabrina Farsi. Come stai Sabrina, che è un piacere incontrato qui a Mar del Plata, tu stai con un progetto molto importante. Sì, veniamo a presentare i 30 corti sui Malvinas, che è un progetto generato dalla Secretaria di Cultura della Nazione, che fu a convocare a 20 realizzatori argentini e 10 latinoamericani per fare una reflexione audiovisuale sui Malvinas. Cosa direttore aveva 8 minuti e un presupposto, il mismo presupposto per tutti, cioè le same regi del gioco e una libertà total. Quindi, lo che si generò è un mosaico audiovisual dove si vedono tutte le cose, le 30 mirate per Malvinas dopo i 30 anni della guerra. Quindi, è stato un progetto molto bello, del quale sono molto orgogliosa, e credo che è stato molto bene. E molto bene, è stato molto bene, quindi deve essere orgogliosa. E cambiando di tema, qual è la film che mi piace più? Cosa direttore? E' stato un po' tutto, anche la tutta, perlomeno la tutta. E' stato molto felice, perché io la amo. La Chambre d'Oré è bellissima, è stata molto bene, è stato molto benvenuto. E molti direttori hanno intentato le farlo, però non la stavano. Si, ademais ha una reflexione sobre lo che è il amore e sobre l'universo privato e lo pubblico. E credo che è quello interessante quando tratta di descrivere o ricordare cose che non ha mai capito in sua memoria e deve trattare di risolvere per risolvere il caso policiale. Certo. È interessante, molto lindo. Molta suerte Sabrina, speriamo che ci vediamo pronto. Ojalà, ojalà che sì. Ciao, grazie.